e ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video e allora ricevo tante volte messaggi sia sui social che anche su email da tantissimi di voi che mi domandano scusa ma come faccio io a convertire il mio avvitatore che monta delle vecchie batterie normali ricaricabili vorrei mettere delle litio ho visto che tu l'hai fatto ho visto tanti video anche online che lo fanno tutti però non so dove prendere il materiale non so dove prendere le celle non so dove prendere le bms eccetera 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 bene ragazzi oggi vi propongo questi set sono dei set quasi completi utilizzano celle litocala da 3000 milliampere ora al dire il vero ne esistono anche altre varianti però te le farò vedere dopo però non metto la mano sul fuoco per la qualità delle celle questa litocala la conosco è un brand cinese che sta puntando tantissimo fare celle di buona qualità e perciò andiamo a parlare di questa poi però vi farò vedere anche gli altri modelli come vedi sono dei pacchi batterie pronti all'uso già saldati assemblati puoi scegliere tra 2s 3s 4s 5s 6s in più puoi anche scegliere eventualmente se vuoi prestazioni superiori o autonomia superiore puoi puntare anche a 2p invece che 1p 2p vuol dire che ci sono il doppio delle celle perciò il doppio delle autonomia questa per esempio è una 2s 1p da 7,4 volt nominale però 8.4 volt massimale come capacità 3000 milliampere ora questa è una 2s 2p come vedi è uguale a questa però sono il doppio sono quattro celle due serie due paralleli con 6 ampere ora come come capacità totale poi passiamo a questo una 12 volt ragazzi questo è un 3s 2p 10.8 volt 12,6 volt massimali 6 ampere ora come devi scegliere il modello questa è una 6s per esempio 25 volt questa qui è una 4s 16,8 volt ripeto scegli il modello in base al voltaggio del tuo avvitatore trapano elettroutensile se è un 12 volt se originariamente montava una batteria ricaricabile standard da 12 volt allora devi prendere questa una 3s 2p già 6 ampere ora è una bella capacità le lidio hanno un'ottima scarica di corrente perciò vedrai che aumenterai anche ragazzi come potenza come prestazioni dell'elettroutensile stesso aumenteranno se per esempio invece hai un 24 volt punta su questa però attenzione a questa ovviamente devi andare a interconnettere cablare saldare una bms perché loro qui ti danno che cose il pacco batterie pre saldato pre assemblato come vedi le celle sono saldate le strip nickel pronte a saldare qui 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 e qui a saldare il cavetto il cavetto della bms perché tutte e tutti i pacchi batterie devono avere una bms di controllo che appunto tenga sotto controllo la carica e la scarica poi oltre questo cosa ti serve ti serve anche il caricabatterie sotto in descrizione io ti metterò alcuni link che ti portano direttamente ai prodotti così eventualmente se vuoi andare ad acquistare già sai dove trovarli perciò a questo devi saldare la bms se non sai come fare e io ti ricordo i miei fascicoli sono su amazon basta acquistarne uno per capire la tecnica su tutti c'è il 3s c'è il 6s c'è il 7s ci sono tutti diciamo i vari modelli di pacco batterie scegline uno in base a del pacco batterie che vuoi andare a fare puoi andarlo ad acquistare sempre sotto in descrizione ai link a tutti i miei fascicoli tecnici se invece vuoi fare questo per lavoro e ti appassiona questa tecnologia di batteria e litio e ti invito al mio corso batteri maker ed è l'unico corso nazionale e anche internazionale ragazzi ancora oggi non mi giungono notizie di altri corsi sulla tecnologia litio realizzazione di pacchi batterie riparazione di pacchi batterie con celle 18 650 21 700 anche a sacchetto perché poi nel corso parleremo di tantissimi modelli tantissime tecnologie diciamo che l'unico è il migliore oggi in giro se vuoi sempre sotto in descrizione ai il link diretto alla sezione del mio sito dove ti spiegherò tutto come funziona quanto costa quanto dura eccetera 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 nel corso di questa settimana ci sono stati dei cambiamenti dei miglioramenti delle aggiunte sempre per portare innovazione e novità se vorrai vai leggi e capirai tutto ben chiaro definito e in più riceverai a caso ovviamente l'attestato di partecipazione al corso potrei appenderlo e farti pubblicità un domani se puoi avviare realmente una piccola attività o anche media attività di riparazione pacchi batterie litio perché parliamoci chiaro ragazzi il futuro è questo il futuro è batterie a litio ricaricabili servono tecnici oggi che costruiscono riparano questi pacchi batterie perciò se tu li vuoi costruire non li vuoi comprare dai cinesi liberissimo di farlo io ai miei studenti do anche dei listini prezzi e do dei cataloghi dei miei fornitori fornitori nazionali internazionali mondiali sia per quanto riguarda le celle per esempio per quanto riguardano i socket bms elettroniche varie tester qualsiasi cosa serve un laboratorio avrai i listini il cartaceo spedito a casa tua ti faccio vedere quest'altro modello queste loro riportano che sono celle da 3400 milliam per ora perciò hanno qualcosa in più come capacità se sono quelle originali sono buone perché parliamo sempre di batterie ottime se rispettano il dato tecnico perché già con una sola parallelo ai 3400 con due ai 6800 perciò in diciamo paragone a quelle di prima con lo stesso ingombro avrai molta più durata capacità questo vedi ti danno anche il 3s e 3s 3s 2p 4s 4s in questa forma in questa tra forma comunque ragazzi ce ne sono tantissimi e sotto io ti lascio il link se vuoi andare a vedere se vuoi costruirti il tuo pacco batterie nuovo per l'avvitatore lo consiglio punta solo sulle 18 6 50 perché perché al momento sono le migliori perché sono piccole compatte il prezzo è buono valutando anche che te li saldano loro ai rogne in meno così se non hai un saldatrice a punti ti ritrovi solo un saldatore a stagno puoi farlo senza nessun problema e niente ti ricordo di iscriverti al canale lasciare un like un commento fammi sapere cosa ne pensi di questi prodotti tra parentesi a basso costo anche se tanto basso costo non sono però ti sollevano da tante seccature abbonate al canale se vuoi accedere al gruppo facebook riservato agli abbonati tutti i giorni o quasi ragazzi perché dovete capire che ho tantissime cose in programma giornalmente però comunque ci sono dirette ci sono posto a esclusivi video esclusivi foto book fotografici vi faccio vedere cosa faccio io durante il giorno in laboratorio però solo esclusivamente agli abbonati sia abbonati del canale youtube perciò se vuoi sotto clic che abbonati o eventualmente anche ai patreon poi qui quello qui c'è anche il caricabatterie questo vuoi scegliere tra 12 volt 16,8 21 25 comunque sotto vi lascio direttamente i link così da non perdere tempo poi ne vendono e ne vendono a bizzeffe guarda per esempio questi ne vendono tantissime i feedback sono tutti positivi e perché ti facilitano la vita ragazzi lo trovi già saldato pronto all'uso ripeto solo andare a cablare la cavetteria questo per esempio non ha neanche messo il bms questo ha messo una sorta di cavo a più poli per un bms esterno che io non consiglio 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 sempre di mettere a bordo il bms così da evitare e tutti gli eventuali problemi e anche cortocircuiti sovraccarichi mal bilanciamenti delle celle perché alla fine si danneggiano le celle stesse ti dura meno il pacco batterie niente ciao ragazzi al prossimo video